Sì, al sostegno del Partito Democratico alla candidatura a sindaco di Francesco Aiello. Il disco verde è arrivato dalla riunione del direttivo del PD di Vittoria che ha discusso delle alleanze delle candidature a sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative. Un matrimonio certamente condizionato anche dal peso elettorale che si saprà soltanto ad urne svuotate, ma sembra già chiara l'intenzione del PD di richiedere in caso di ingresso a Palazzo Iacono la vice sindacatura, oltre che una seconda presenza in giunta. Tutto fin dall'inizio ben stabilito a tavolino, visto che per il PD il vice sindaco da affiancare ad Aiello sarà il segretario del circolo di Vittoria, Giuseppe Enicastro, mentre l'assessore la preside Giuseppina Spataro. Ma dei dettagli ci sarà ancora tempo e modo di discuterne. Intanto, approvata all'unanimità dei voti la proposta di fare propria la candidatura a sindaco di Aiello, inoltre ufficialmente emersa l'indisponibilità di altri candidati sindaco a confrontarsi nelle primarie. Dopo l'introduzione ieri del segretario Giuseppe Enicastro ha preso la parola il coordinatore della delegazione, Angelo Ciucciullo, che ha riferito dell'esito dell'incontro con il candidato a sindaco Francesco Aiello e con la delegazione delle forze politiche e sociali che lo sostengono. Subito evidenziate convergenze sui programmi e sui criteri che dovranno guidare l'Alleanza e il governo della città. Pur nell'ambito delle pari dignità fra le forze politiche e sociali, come accennato, è stato riconosciuto dall'Alleanza il peso specifico del PD come forza politica. In prima battuta attraverso il riconoscimento della vice sindacatura e di una seconda presenza ingiunta sarà poi la competizione elettorale a determinare il peso della partecipazione definitiva di ciascuna forza politica agli organi di governo della città. Intanto la strada che porta alle amministrative del prossimo 4 e 5 ottobre è ancora lunga e tanti altri nomi si potrebbero aggiungere alla lista di candidati che si attende corposa così come è sempre stato a vittoria in tempo di campagna elettorale. Intanto tre candidati ufficiali alla corsa a Palazzo di Città, oltre Aiello, anche Luigi Melilli, ex leghista, e Piero Gurrieri appoggiato dal Movimento 5 Stelle. In certo ancora invece il ruolo dell'associazione Reset che già qualche giorno fa ha anticipato di anteporre il programma ad un qualsiasi candidato. L'errore della politica vittoriese, ha affermato il segretario Alessandro Mugnes, è sempre stato quello di mettere davanti un candidato a sindaco prima di un progetto. Quello che Reset però assicura è il suo ruolo di primo ordine nella prossima campagna elettorale. In qualità di segretario dell'associazione Reset Vittoria posso garantire continua Mugnes sul fatto che il progetto c'è e saremo protagonisti positivi in un'ampia coalizione composta da numerose persone della società civile.